Canemacchina parte benissimo contro il Tarallo, ha subito un'occasione e non la concretizza, il Tarallo invece qui marca la sua differenza perché ha la prima vera azione davanti, realizza con il bel diagonale, ma Canemacchina gioca bene, entra tante volte nell'area ma spreca, non riesce mai a concretizzare l'ultimo tiro, qui Tarallo ha una chance, tiro però ben parato, ancora Canemacchina non inquadra la porta, qui il regista ci regala questo tiro ben parato da Canemacchina, ancora Tarallo e Canemacchina si oppone, nel finale si apre tanto e subisce anche il 2-0. Il classico, vedo un leocomotivo arrembante nella fase iniziale di partita, qui il tiro fuori, Lottacontina però lo punisce alla prima occasione, squadra cinica, quella milanese che va così in avvantaggio, confermando le buone cose fatte quest'anno, qui la parata di Lottacontina che poi realizza, un gol bellissimo con il diagonale sul palo lontano, qui grande controllo, guardate, sempre di Lottacontina è ispirato dopo il vantaggio, non riesce a segnare, arriva il gol al volo la parte finale qui nelle nostre riprese. Sporting, Doping e Galaxy, poche le emozioni, a porta vuota, Doping non riesce a segnare, qui il portiere viene mosso ma la porta era sguarnita, ci prova Galaxy, nel finale, solo nel finale, arriva il gol della vittoria per Doping. Sfortunatissimo Crazy Horse che perde una partita equilibrata e ben giocata, Sleep United subito in avanti, ci prova Crazy, poi lo United, un paio di occasioni qui la parata, il gol nel finale a tre minuti dalla fine, guardate che fortuna, di testa l'omino si proietta sulla palla e segna. Partita molto equilibrata, l'Atletico ci prova, trova la risposta del portiere, poi clamorosa occasione per Dinamo Stiva, porta vuota, alza con l'intervento del difensore decisivo nel finale, due occasioni per Novegolo che però non sfonda, finisce 0-0.